Cambiamo argomento, con Anna Testa andiamo ora a Caivano dove il comune sciolto per infiltrazioni camorristiche ha 30 milioni di euro di debiti e il peso elettorale della criminalità è sempre elevato. Caivano alle porte di Napoli, circa 37 mila abitanti, questo è uno dei quazzo comuni dell'Interland sciolto per Camorra. Quante persone vivono al Parco Verde? Ufficialmente circa 6 mila. Quanti voti muoverebbe? Garantisce quei 2 mila voti, sicuramente. Anche questo è un serbatoio per la politica locale? Sì, perché consideriamo che praticamente tranne in un paio di casi tutti i sindaci di Caivano sono stati eletti per molto meno di 2 mila voti di differenza. Un altro comune che si è aggiunto alla blacklist dopo Orta di Atella, Crispano, Casavatore e Calvizzano. Caivano è anche un comune in dissesto finanziario per debiti che si aggirano intorno ai 30 milioni di euro. Per far fronte a questo risanamento finanziario è stato necessario approvare dei bilanci, senza questo strumento non è possibile fare. I tre commissari dovranno traghettare la città fino alle prossime elezioni nel 2020. Strutture comunali in stato di abbandono, piscina comunale, campetto di calcio. La scadenza dei bandi è prevista per il primo aprile, quindi nel frattempo ci saranno un po' di sopralluoghi da parte di coloro che manifesteranno interesse. Abbiamo avuto anche dei contatti con il procuratore per la procura per i minorenni, dove si sta studiando la possibilità di utilizzare dei tutor che possano evitare di togliere i ragazzi dalle famiglie. Solo nel Parco Verde un'indagine della Corte dei Conti ha portato alla luce un danno erariale di oltre un milione di euro solo nel 2009 per affitti non riscossi. Grazie.